ciao a tutti sono cicalino canterino e vorrei dire la mia opinione sul gesto di graziano pelle che ieri sera si è rifiutato di stringere la mano all'allenatore ventura che lo ha sostituito durante la partita contro la spagna valevole per la qualificazione mondiale 2018 secondo me pelle consapevole della sua anonima prestazione sapeva di non meritare la stretta di mano e quindi non sentendosi degno non ha dato la mano a ventura o forse la mano gli doleva ancora perché quando ha fatto lo scavetto a neuer agli europei si è slogato il polso secondo me queste sono le due possibili ragioni del suo rifiuto ventura non capendole lo ha punito escludendolo dalla prossima partita contro la macedonia ciao e alla prossima